Rigoletto è sempre un personaggio molto profondo, molto impegnativo per ogni baritono che osa di affrontare questo tipo di repertorio. La versione originale di Giuseppe Verdi, praticamente abbiamo tutto scritto già nella musica, nella partitura, allora non c'è neanche bisogno di scavare chissà quanto profondamente nella profondità per trovare qualcosa che non c'è. Già abbiamo tutto il materiale musicale, drammaturgico, tutto già dentro nella nella partitura e questo è un grande aiuto per l'artista, però nonostante tutto i tempi cambiano, il contesto nella vita cambia e noi dobbiamo seguire questi cambiamenti ovviamente con grande prudenza e con grande gusto direi, perché quando cambia il contesto la situazione palcoscenico, scenografia, noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo stare molto attenti di non esagerare, di non danneggiare il personaggio. Nel nostro caso abbiamo una situazione diciamo molto più diversa di quello che è stato scritto da Giuseppe Verdi, l'ambiente è diverso. Il nostro Rigoletto si svolge in un luna park abbandonato o quasi abbandonato, una situazione molto nera, molto angosciante, molto decadente direi, che un po' corrisponde con i tempi in cui viviamo e noi come attori, come artisti dobbiamo adeguarci bene e pensare di non esagerare ma neanche essere molto, molto economici nel nostro atteggiamento. È un Rigoletto diverso, diverso però io direi che i valori umani non cambiano, cambia essere umano però i valori restano comunque, sono valori che sono eterni.